I titoli di oggi Reddito e pensioni di cittadinanza Europa, demografia, clima e elezioni 25 aprile, 1 maggio Assemblea Unitaria Padova Vi lasciamo per 20 secondi Torniamo in studio dopo la pubblicità Siamo competenti e convenienti Siamo i CAF CGL E ti possiamo offrire importanti servizi La compilazione della dichiarazione dei redditi e del modello ISEE Il calcolo dell'IMU e della TASI Il servizio di contenzioso per eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni La consulenza e l'assistenza per l'assunzione di colfe badanti Il servizio di compilazione della dichiarazione di successione E ci occupiamo anche di contratti di locazione Dunque, ti aspettiamo! Nelle sedi di Belluno, Feltre, Agordo, Pieve di Cadore, Sedico, Cortina d'Ampezzo e Santo Stefano di Cadore Competenti e Convenienti Reddito e pensioni di cittadinanza Il reddito di cittadinanza, come sappiamo, è una forma di sostegno per le famiglie in difficoltà Composta da due parti Un'appretamento economica, che prevede un reddito minimo garantito E un contributo per l'affitto A questa si aggiunge un progetto di accompagnamento e rinserimento sociale al lavoro Per chi ha più di 67 anni è prevista la pensione di cittadinanza Il reddito e la pensione di cittadinanza si sono potuti richiedere dal 6 marzo scorso E verranno distribuiti a partire dal 27 aprile Le domande per questi aiuti sociali giunti all'Inps a livello nazionale sono state 806.763 Solo 8.503 le domande formulate online dai diretti interessati Le pensioni di cittadinanza rappresentano il 13,1% del totale E risultano ad essere 105.699 27.248 sono le richieste totali provenienti dalla Regione Veneto Nella nostra provincia sono state inoltrate 797 domande in totale Di cui 337 a Belluno, 22 a Dagordo, 249 a Feltre, 89 a Pieve di Cadore Il reddito di cittadinanza sostituisce il reddito di inclusione Quota 100 e gli assetti economici Un'altra misura disposta dal Governo nello scorso gennaio Una forma di pensionamento anticipato, quello della quota 100 530 sono state le domande in provincia di Belluno al 17 aprile 123.780 le domande totali in Italia 31.786 sono donne 88.937 sono uomini Ora in fase di arrivo il decreto crescita Che dovrà dare risposte per la messa in moto dell'economia Il debito così elevato che abbiamo Però aumenta il rischio che tutti i canali risultino bloccati Per le misure di politica economica di tipo espansivo E non si può escludere che, strada facendo, si sommino nuovi oneri Andando così ad aumentare il debito Uno scenario complesso che si prospetta dopo una manovra approvata appena 4 mesi fa E che solo per il reddito di cittadinanza e quota 100 Ha attivato una maggiore spesa corrente per 38 miliardi nel triennio in corso Praticamente tutti in deficit Europa e demografia Nel 2018 l'Europa conta 512 milioni di cittadini Il mercato interno più grande del mondo 30 milioni di imprese Il PIL dell'Unione è quantificato in 14 mila miliardi di euro Ma l'Europa sta cambiando Se parliamo di demografia Vediamo che in Europa i decessi superano le nascite Ma in Europa la popolazione cresce E il saldo migratorio evita un eccessivo invecchiamento della popolazione del continente L'Eurostat, nel presentare i dati demografici dei 28 paesi aderenti all'Unione al primo gennaio 2018 Conferma alcune tendenze note e ne mostre in evidenza altre Fra queste, un'Europa divisa nettamente in due Proprio in relazione alla natalità Le nazioni del nord in crescita Mentre i tassi di natalità più bassi Si sono verificati nei paesi dell'Europa meridionale Dunque le nuove generazioni che insisteranno nel suolo europeo Sono quelle che hanno visto l'apertura dei porti E trovano un suolo accogliente Nessuno di noi, nessuno stato singolo Nessun territorio singolo Se sbarra la strada ai popoli migratori Avrà un futuro E lo constatiamo come SPI nella quotidiana analisi dei dati Nei momenti di incontro con le amministrazioni locali Tocchiamo come il decremento demografico si traduca in difficoltà di recupero di risorse Da imponibile E vediamo la difficoltà di ridistribuzione Per mancata disponibilità delle risorse alle fasce più deboli Altro dato che mette in allarma è la povertà Che in Italia si attesta a livelli costantemente superiori Rispetto sia all'aggregato dell'Europa A6 Sia rispetto all'Unione Europea A28 La spesa in Italia per la protezione sociale Sanità, previdenza e assistenza In euro pro capite È allineata con quella dell'Unione Europea nel complesso Mentre è di circa 1700 euro inferiore rispetto alla media dei sei paesi fondatori Europa e clima Un fenomeno nuovo è il movimento consapevole delle giovani generazioni Che induce tutte le coscienze a soffermarsi a pensare al tema del cambiamento climatico L'Unione Europea si è fissato obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia Da realizzare entro il 2020 Per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli pericolosi La comunità internazionale ha concordato Che la temperatura media del pianeta non deve superare di due gradi Quella registrata nel periodo pre-industriale Per questo l'Unione Europea si adopera per ridurre l'emissione dei paesi membri Incoraggiare altri paesi che inquinano molto a diminuirle Intraprendere un'azione incisiva per affrontare l'impatto inevitabile dei cambiamenti climatici La domanda crescente di tecnologie pulite Offrirebbe inoltre l'opportunità di modernizzare l'economia europea E favorire una crescita e posti di lavoro verdi Altri obiettivi sono ridurre le emissioni di gas a effetto serra Di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 Aumentare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico europeo Migliorare l'efficienza energetica per ridurre il consumo di energia primaria Del 20% rispetto ai livelli previsti Tutto questo andrebbe ad incidere sulla qualità della vita dei nostri figli e dei nostri nipoti A lungo termine saranno necessari tagli più incisivi a livello mondiale Anche con l'impegno a ridurre le emissioni dell'80-95% entro il 2050 E sarà necessario che tutti i paesi sviluppati partecipino a questo sforzo collettivo Se anche oggi stesso non venissero più prodotte emissioni Quelle già presenti nell'atmosfera continuerebbero a incidere sul clima per decenni Occorre urgentemente definire una nuova normativa in materia di edilizia Per tenere conto delle future condizioni climatiche Costruire sistemi di difesa dalle alluvioni Mettere a punto colture resistenti alla siccità Abbiamo visto cosa ha determinato la tempesta avaia nella nostra provincia Uno sconquasso dell'intera area montana e valliva Dove il ripristino e la rigenerazione del territorio Sommati alla sollecitazione estrema della viabilità Che non è conformata a tale eccezionalità La messa in sicurezza di strade di argini Vede una difficilissima e lunga fase di disagio per tutti Europa ed elezioni Un appuntamento, quello delle consultazioni europee In cui ci stiamo avviando Che segnerà un passo in avanti per il rafforzamento dell'Europa O che ci farà tornare ad una nuova epoca di chiusure Di egoismi nazionali, di diffidenza Di pensieri razzisti Attratti nell'intrigo dell'eurosetticismo e del sovranismo Per la prima volta la campagna elettorale Rischia di trasformarsi in un referendum pro o contro l'Europa E la disgregazione del progetto europeo Appare come una prospettiva non più solamente teorica Teorie che passano con toni semplici e accattivanti Ma è proprio la complessità del tempo presente La cui cosiddetta globalizzazione ci porta nelle continue sfide mondiali A dimostrarci che nessun paese oggi può permettersi di procedere in solitudine Il 9 marzo è la festa dell'Europa E celebra la pace e l'unità Noi vogliamo che l'Europa lavori contro le disuguaglianze sociali E che attui le politiche senza logiche di austerità Messe in atto fino ad ora Vogliamo che siano definite le politiche di accoglienza Verso i richiedenti asilo Ora che altri recenti avvenimenti condizioneranno il futuro dell'Africa e del Mediterraneo Il 26 maggio dobbiamo impenarci perché le consultazioni siano di tutti Tutti siamo chiamati ad esprimere liberamente il nostro parere Il 25 aprile 2019 Si è svolta nella sala comunale dedicata per l'appunto Eliseo Dal Ponte a Belluno Il ricordo del segretario della Camera del Lavoro Eliseo Dal Ponte L'anniversario della Resistenza o semplicemente il 25 aprile È una festa nazionale della Repubblica Italiana È un giorno fondamentale per la storia d'Italia E assume un particolare significato politico e militare In quanto simbolo della lotta di resistenza Attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale A partire dall'8 settembre del 1943 Contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana E l'occupazione nazista È il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia Proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazi fascisti Indicando a tutte le forze partigiane attive nel nord Italia Facenti parte del Corpo Volontari della Libertà Di attaccare i presidi fascisti e tedeschi Imponendo la resa alcuni giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate Entro il primo maggio tutta l'Italia settentrionale fu liberata Bologna il 21 aprile Genova il 23 aprile Venezia il 28 aprile La liberazione mise così fine a vent'anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra La data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della fase militare della Resistenza E l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti Che porterà prima al referendum del 2 giugno del 46 per la scelta tra monarchia e Repubblica Consultazione nella quale per la prima volta furono chiamate alle urne per il voto politico le donne Poi alla nascita della Repubblica Italiana Fino alla stesura definitiva della nostra Costituzione Siamo impegnati tutti a rinnovare e commemorare la Resistenza partigiana Adesso il punto La segretaria generale dello SPI CGL di Belluno, Rita Gentilin, parla sulle misure di salvaguardia Che cosa sta succedendo nel nostro mondo politico? Lo sapremo magari dopo questo notiziario Però preoccupa molto il nostro sindacato Preoccupano le misure di salvaguardia di quella legge di bilancio un po' azzardata Ovvero le manovre per recupero delle risorse per evitare l'aumento dell'IVA Sommate poi l'abbattuto del resto della congiuntura internazionale L'effetto di quota 100 e del reddito di cittadinanza Non incidendo sui consumi e sulla crescita Almeno nel primo periodo non migliorano senz'altro la situazione Lo spread al 250 come ora aumenta il debito e frena l'economia Non possiamo considerare questa una situazione di tranquillità I pericoli sono le nuove imposizioni fiscali e i nuovi tagli ai servizi Come se di tagli non ne avessimo subiti abbastanza La recente analisi su dieci anni di federalismo fiscale Eseguita dallo SPICGL del Veneto Hanno visto una diminuzione drastica dei trasferimenti ai comuni Lo studio socio-economico dello SPICGL Dice che su 563 comuni In dieci anni i trasferimenti statali si sono dimezzati Con un conseguente aumento della pressione fiscale E taglio alla spesa sociale Nel 2009 i trasferimenti ammontavano 1 miliardo e 66 milioni Nel 2018 a 508 milioni 345 mila Dunque meno del 50% I comuni della nostra provincia hanno avuto un taglio più alto della media veneta Il 70% in meno contro il 52% della media appunto della regione Le risorse trasferite nel 2009 ammontavano a 55 milioni Nel 2018 non raggiungono i 16 milioni di euro E naturalmente i comuni sono corsi ai ripari Aumentandoli addizionali all'IRPEF, l'ICI e l'IMO E restando in tema di governo e di modo di governare Lo SPI di Belluno non può non condannare La foto del ministro dell'interno nonché il vice premier Apparire imbracciando un mitra non è un modo spavaldo di comunicazione Ma è il non rispetto del cittadino Il 9 maggio a Padova con FNP della CISL e WILP della WIL Saremo in una grande assemblea per rivendicare il rispetto e la tutela Appuntamenti dello SPI Primo maggio a Cusighe Festa del lavoro nel segno dell'Europa Voluta dalla CGL di Belluno al campo sportivo di Cusighe Una giornata all'aperto per ritrovarci tutti nei nostri valori Il programma della giornata Saluto della segreteria, considerazioni sul lavoro e sull'Europa Poi un pranzo all'aperto con pastine e verdure La festa del lavoro, anche chiamata festa dei lavoratori, ha una lunga tradizione Il primo maggio nasce infatti a Parigi il 20 luglio 1889 L'idea viene lanciata durante il congresso della seconda internazionale, riunito nella capitale francese In quell'occasione venne indetta una grande manifestazione per chiedere alle autorità politiche di ridurre la giornata lavorativa a 8 ore La CGL vi invita tutti, vi aspettiamo per stare insieme Padova, assemblea unitaria, il 9 maggio Tutti pensionati al Pala Geox Tutti noi pensionati siamo chiamati a partecipare all'assemblea unitaria che avrà luogo a Padova, al Pala Geox Una grande assemblea per rivendicare la tutela delle pensioni Per avere una legge sulla non autosufficienza Perché sia garantito il diritto alle cure Perché si dia attuazione alla riduzione delle tasse Perché sia favorito l'invecchiamento attivo e in salute Lo SPI di Belluno, come sempre, è tra i partecipanti e mette a disposizione il pulma Chi intende aggregarsi e partecipare all'assemblea Può prenotarsi e dare adesione entro il 7 maggio prossimo Chiamando il numero 340-655-1229 Oppure il 329-683-7838 L'assemblea è preparatoria alla grande manifestazione denominata Dateci Retta, che seguirà il primo giugno a Roma Lo SPI non sta fermo Questa era l'ultima notizia Si chiude qui il nostro notiziario Vi ringraziamo di averci seguito Vi diamo appuntamento fra 15 giorni Vi ringraziamo di averci seguito Grazie a tutti